Ben trovati anche per la nostra pagina sportiva, apertura dedicata ai motori, ci sono importanti novità che riguardano il rally Città di Lucca, appuntamento più atteso dell'estate per tutti gli appassionati di auto da corsa. Sono aperte le iscrizioni all'edizione numero 51 del rally Coppa Città di Lucca in programma il 23-24 luglio prossimo, una gara che oramai è diventata un classico appuntamento estivo della specialità e sarà valevole come undicesimo appuntamento del campionato regionale AC Sport, oltre che per il trofeo rally AC Lucca. La scuderia Balestrero, organizzatrice della manifestazione, ha effettuato una piccola rivoluzione per questa edizione, anticipando la partenza alle ore 14.01 di sabato 23 luglio e l'arrivo alla mezzanotte della stessa giornata, utilizzando in entrambi i momenti di alta visibilità il favoloso contesto del Caffè delle Mura, vero palcoscenico naturale tra i più blasonati della penisola. Il ritorno della prova delle pizzorne, che lo scorso anno ha riscosso notevole successo, è stato così rafforzato in questa edizione, con il triplo passaggio diventando così il tratto cronometrato di maggiore importanza, con i suoi 11 chilometri e 600 metri, ed essendo la prova di apertura di metà gara è conclusiva. Le altre due prove in programma saranno San Rocco di 11 chilometri e Cune di 8 chilometri e mezzo, entrambe ripetute due volte. Altra novità della gara, l'ubicazione del riordino e del parco assistenza, che per la prima volta saranno posizionati nel centrale parcheggio delle Tagliate. Una gara quindi molto concentrata, che avrà 74 chilometri di prove speciali per un percorso globale di 305 chilometri. Basket, basket femminile, ennesimo successo per la formazione che si chiama Gentilmente, che conquista il suo terzo titolo nazionale WISP consecutivo. Vittoria è arrivata sbaragliando nelle finali di Montecatini, il campo delle formazioni oppositrice, prima l'OPSA-Bressa, formazione della provincia di Milano e successivamente la compagine napoletana della Virtus Melito. Accanto alle coppe del primo posto regionale e nazionale si è aggiunta anche quella individuale, consegnata a Gloria Favilla come miglior realizzatrice del campionato. Ci spostiamo in Vasca, nonostante la brutta performance al meeting dei Sette Colli. La nuotatrice via regina di Letta Carli spera ancora in una wild card per le Olimpiadi di Rio. La nuotatrice via regina di Letta Carli, come le altre azzurre che hanno preso parte al meeting a Sette Colli di Roma, non ha ottenuto il tempo per la partecipazione diretta alle Olimpiadi di Rio per soli sette decimi di differenza. La via regina potrebbe però essere convocata ugualmente dal CT della Nazionale Cesare Butini che diramerà in settimana prossima i nomi che gareggeranno alle Olimpiadi. Ai Sette Colli di Letta sabato ha conquistato il secondo posto negli 800 con il tempo di 8,27 e 27, sette decimi inferiori a 8,26 e 5 che era il limite per Rio. Nel 400 il giorno prima si era piazzata terza con un crono di 4,07 e 32, prima fra le azzurre, dimostrando di essere in forma e a questo punto non le resta quindi che sperare di avere convinto il CT azzurro per la confocazione alle Olimpiadi, visto il buon momento di forma che sta attraversando e che ha anche ampi margini di miglioramento. Podismo è iniziata la stagione delle gare estive, nel migliore dei modi per il gruppo sportivo Orecchiella, dopo il successo alla Strasanto Mora arriva un altro alloro per il forte Mario Bendoni che si è giudicato la Sudatina Montalese, classica gara collinare di 10 km, appuntamento divenuto tradizionale, molto frequentato dagli appassionati di tutta la Toscana. Molto bene anche il gruppo podistico Parco Alpi Apuane con Nicola Matteucci, atleta di Marlia della Marathon Sport Parco Alpi Apuane, nella Corri per Alice, gara su strada di 8 km, Matteucci ha vinto la gara in 29 primi, precedendo Stefano Giannini della Silvano Fedi di 1 minuto e 20 secondi e il giovane e talentuoso Oscar Cassì di oltre 2 minuti. Ancora a podismo, si è disputata la 61esima edizione della Pistoia a Bietone, gara podistica competitiva, ha partecipato anche Stefano Gori per la categoria Paralimpica, gara che si è svolta in località Le Regine alla Bietone e Stefano Gori negli ultimi anni aveva collezionato tre terzi posti, ebbene quest'anno è riuscito a centrare la vittoria con un tempo di 21 minuti battendo il suo personale di 2 minuti e mezzo, la sua guida in questo caso era Silvia di Pistoia. Infine salutiamo Jonathan Balducci e Riccardo Stefani, due centauri partiti da Filecchio per raggiungere Caponordo in moto che sono arrivati in Polonia, ci tengono aggiornati dopo aver attraversato l'Austria con punte di 35 gradi di temperatura, sono stati accolti dalla pioggia nella Repubblica Ceca, ancora acqua all'arrivo in Polonia domenica pomeriggio, Balducci e Stefani affrontano l'impresa su due KTM 1190 di cilindrata. È davvero tutto anche per lo sport, un breve break, poi la terza parte del TG9.